Presidente, ad Arezzo un trend positivo, emerge un legame forte con l'agricoltura appunto tradizionale. Sì, certamente prosegue il trend positivo iniziato anni fa, le nostre aziende si stanno rafforzando, il piano di sviluppo rurale locale è sicuramente uno strumento indispensabile per continuare ad operare in un settore che nel nostro territorio ha avuto e tuttora ha un ruolo importante di tenuta complessiva dell'economia ma anche nel nostro ambiente e del nostro paesaggio. I prodotti toscani fatti con grano o mais toscano sono sicuramente migliori da un punto di vista qualitativo di prodotti che vengono dall'America, dall'Asia, dal Canada o dagli Stati Uniti. Assessore, nonostante proprio la crisi si nota una grande efficienza del sistema e un'attenzione, una vicinanza dell'istituzione verso gli agricoltori? Sì, diciamo che l'amministrazione provinciale sarebbe comunque impegnata, diciamo mettiamola così, questo periodo di crisi c'è stato uno stimolo in più per cercare di velocizzare l'esame delle pratiche relative al piano di sviluppo rurale, proprio per dare le risposte nel più breve tempo possibile compatibilmente con i regolamenti e le leggi a chi in agricoltura chiedeva un sostegno dall'Unione Europea. Rispetto ai 56 milioni inizialmente assegnati alla provincia di Arezzo, grazie proprio a questa efficienza ce ne sono stati di fatto resi disponibili 62 che fino all'ottobre 2012 sono stati distribuiti nel territorio agli agricoltori. ...oltre il 90%, quindi vuol dire che non solo ci sono stati...